Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Finalmente parliamo di The Paperone Paperino numero 15 Don Rosa Library, contenente 4 storie, 114 pagine, 8,90 euro a prezzo di copertina, si prosegue con l'analisi delle storie scritte e ideate da Don Rosa sui personaggi Disney. Come al solito parlerò velocemente delle storie perché ormai sapete che questo tipo di contenuto a me piace grazie ai redazionali piuttosto puntuali scritti e realizzati da Don Rosa stesso che ci introduce le vicende che poi andremo a leggere con tutti gli approfondimenti su note, colore e quant'altro perché questa storia, come è nata, i dito alle quinte, quali storie si sono state omaggiate e quant'altro. Tutte cose che mi sono piaciute e che in realtà, ci ho fatto caso adesso, nella versione italiana noi ce l'abbiamo antecedente ad ogni singola storia. Nella versione americana sono tutte pagine dell'ultima sezione dei vari libri, quindi sono libri, volumi da 250 pagine circa, ci sono circa 200 pagine di storie e poi 50 pagine con tutti questi approfondimenti che i redattori italiani, quindi Lida Canatella, Luca Boschi, Alberto Beccattini, hanno sempre preferito mettere prima delle storie. In questo caso qui funzionano perché Don Rosa non fa spoiler. Nei loro casi a volte c'erano degli spoiler belli pesanti ed è una cosa che non ho mai capito perché a me ci metti degli spoiler su storie che saranno note stranote ma molti lettori le acquistano magari per la prima volta. Al di là di questo. La storia d'apertura è The Junior Woodchucks, World of Lotter Jargon, che è stato tradotto in italiano con questione di gergo. È una storia che ci mostra in realtà le origini di qui e qua come giovani marmotte, con un papirino che a un certo punto ricorderà di quanto fossero discoli i suoi nipotini e di aver voluto far intraprendere a loro, li ha portati al mega raduno delle giovani marmotte. Le giovani marmotte che, scoprendo che qui e qua sono gli eredi diretti di Cornelius Scott, fondatore tra l'altro delle giovani marmotte, vogliono averle tra le loro fila e quindi gli proporranno di fare una missione, una vera e propria impresa, che dovranno portare a compimento. La storia è molto semplice, vuole celebrare questo inizio, questo mi sa che era proprio per il compleanno di qui e qua. E come loro abbiano cominciato a fare, le giovani marmotte, era una cosa che neanche Carl Barks ci aveva mai raccontato. Quindi di conseguenza, il mostrarci queste origini, piuttosto che come siano arrivate da Paperino e cosa nota e stranota, è stata una scelta molto convincente e molto molto azzeccata, anche grazie ad un'avventura che ti trascina nel corso delle pagine. Davvero una storia riuscita di apertura. La seconda storia di questo volume è Uncle Scrooge meets The Black Knight, tradotto in italiano con The Paperone e Cavaliere Nero. Ora, visivamente lo vedete, a me fa veramente schifo sto coso, il Cavaliere Nero è veramente brutto. Tutta la storia ruota attorno a questo super mega miliardario francese, che in realtà è anche un ladro, che è il famoso ladro Arpin Lusen, il Cavaliere Nero, con che francese l'ho detto ragazzi, con che francese? E che, per l'appunto, vuole sfida di Paperone a rubargli tutti quanti i suoi averi. È una storia particolare, perché se da un lato omaggia tutto quel gusto francese per i ladri, gli scapisti, il Fantomas e quant'altro, dall'altro lato è un sequel di altre storie di Don Rosa. Perché il fatto che lui sia sì il Cavaliere Nero, ma al contempo riesce ad ottenere quella sostanza, che adesso mi sfugge il nome, mannaggia a me che prendo gli appunti e non mi leggo le cose e faccio i video come al solito abbraccio, quella sostanza di qualche storia fa, sempre di Don Rosa, in grado di sciogliere qualunque cosa, il Solvente Universale, tranne i diamanti. E il nostro ladro, ad un certo punto, riuscendo a rubare questa cosa a Zia Paperone, scoprendo le proprietà di questo liquido, di questo Solvente, deciderà di ricoprire la sua armatura e le sue armi di diamanti e di Solvente Universale, in modo tale da distruggere le ricchezze di Zia Paperone. Storia che, al di là del Cavaliere Nero, che sembra proprio una macchia nera brutta, a me non mi è piaciuto proprio graficamente, è proprio brutto. Anche, voglio dire, anche quando fa semplicemente il ladro, a me sembra proprio la macchietta. Mi ricorda molto Detective Conan, ma lì è un altro contesto e ci sta. Qui, boh, non mi è piaciuto. Graficamente non mi piace. Concettualmente la storia è molto gradevole, molto divertente, sia nella prima parte, con questo ladro super mega funambolo, in grado di distrarre, fare qualunque cosa lui voglia, ai danni di Paperino e Paperone, sia nella parte finale, dove per l'appunto la minaccia diventa estremamente concreta, visto questa armatura che lo rende invincibile e implacabile. Davvero una storia ben orchestrata. La storia successiva è Paperino e lo scalogno fugo triplo. Una storia che, se la storia d'apertura festeggiava i 50 anni, credo, di qui o qua, in questa storia si vuole festeggiare il personaggio di Gastone. Gastone mostrandoci non tanto la sua fortuna, perché la sua fortuna è innata grazie anche alla fortuna dei suoi genitori, ma ci viene raccontato che il giorno del suo compleanno Gastone è strasfortunato. Ci viene mostrato il come e perché sia nata questa sfortuna e ci vengono mostrate tutte delle gag che tendenzialmente sarebbero legate al personaggio di Paperino, ma che in questo caso sono tutte attribuibili, attribuite al personaggio di Gastone, perché è il giorno del suo compleanno e lui ha una sfortuna nera. Storia molto divertente, funzionale, che omaggia bene il personaggio di Gastone, sempre odioso, sempre comunque, anche quando è sfortunato, ma che comunque ci stava, ecco, nell'ottica dei festeggiamenti dei personaggi Disney più importanti e che quindi Don Rosa ha avuto la fortuna di omaggiare quando è stato il momento. Non so che potrebbe essere anche per lui il cinquantesimo anno, molto molto facilmente. Chiude l'albo, invece, è una storia legata al ciclo della saga di Paperone dei Paperoni e Zeb Paperone, il capitano cowboy del Catty Sark. Il Catty Sark, a quanto pare, non lo sapevo, l'ho venuto a scoprirlo qua, è questo veliero, ok, ma era un veliero famoso. Paperino giunge nelle Indie per vendere i due dei suoi buoi, qui siamo ancora nella fase iniziale della sua carriera, ancora non è andato in Klondike, era ancora un cowboy, quindi siamo tra il capitolo 2 e il capitolo 3, indicativamente, o tra il 3 e il 4, tra il 3 e il 4, e porta i suoi tori a vendere a Java, credo, indicativamente in quella zona là, per vendere i suoi buoi a due Marajah, ad un Marajah per farlo vincere in una corsa tra tori, e qui verrà tradito e ingannato dal Marajah avversario, e dovrà cercare di fare di tutto per riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Con tutta una serie di situazioni anche abbastanza paradossali che si verranno a creare, e a un certo punto il nostro paperone sarà il capitano, effettivamente, del Catty Sark, questa nave. Il come avviene, il perché avviene, tutte le mirabolanti imprese che compie nel frattempo, ne succedono mille, non più mille, ve le lascio a voi scoprire all'interno di questa storia. L'unica cosa che vi lascio col dubbio, l'unica chicca che vi do in realtà, è legata al fatto che Don Rosa si è informato, e come al solito in realtà, e ha scoperto che effettivamente, al di là del fatto che Zeppoperone non esiste, ma questa storia è plausibile, tutta questa storia è plausibile, perché da un lato la corsa tra tori era realmente esistente e vigente tra i due Marajah, il fatto che la Catty Sark fosse in quella zona in quel periodo è vera, il fatto che succedono determinate cose nel finale della storia sono le stesse cose che sono successe realmente in quel periodo lì, quindi la storia di per sé è plausibile. Poi, no, perché comunque Zeppoperone non esiste, però è interessante sapere che per l'appunto gli avvenimenti storici che vediamo sono concreti e realistici. La parte finale dell'albo si chiude con tutta una serie di illustrazioni, e non mi ricordo se era nel numero scorso o se era in questo, che c'era una illustrazione a metà, ma non è così, alcune più riuscite di altre, sono copertine di alcuni numeri legati a testate disneyane che non riguardano le copertine delle storie contenute all'interno di questo volume, volume davvero bello che mi è piaciuto dall'inizio alla fine, forse tra i migliori finora usciti, quindi se volete assaggiare un po' di cose varie ed eventuali, alcune chicche, questo numero 15 mi sento di consigliarvelo fortemente, anche se non seguite la testata. Questo è quanto avevo da dire per oggi, qui sotto nello spazio commenti aspetto vostre opinioni in merito. Avete letto questo quindicesimo volume della Dorrosa Library? Che cosa ne pensate? Scrivetemelo qui sotto nello spazio commenti, dove possiamo discuterne tranquillamente. Qui da Francesco, che è proprio alle mie spalle, dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!